A quanto pare mi hai scoperto. Il tuo orario scolastico non cambia da vent'anni. E il giovedì hai sempre un'ora a buca. Come stai, professore? Splendidamente. E a scuola che ne pensi? Finché la cosa non interferisce con l'insegnamento non è un problema loro. E' strano che sia venuto a trovarmi proprio in questo periodo. L'universario non l'ho dimenticata. Una volta avevamo quello di nozze. Ora questo. Hai ricevuto anche tu la telefonata? E hai risposto. Sono passati cinque anni. Ha diritto anche lui in una seconda possibilità. E' quello il suo posto. Io non l'aiuterò a uscire da lì. Anche Valentina sarebbe d'accordo. Non nominare Valentina. Dico solo che... Non ti azzardare. Non mia presenza, eh. Un giorno tutti i giovedì aspettavamo quest'ora per correre a casa a fare l'amore. Perché sei tornata a vivere lì? Mi serve un favore. E tu sei l'unico prof di informatica che conosco. Di che si tratta? Di violare un sistema di videosorveglianza. Te lo senti? E tu sei... Grazie a tutti.